La prima occasione è andata male, potevo fare sicuramente meglio, anche se Sirgu ha fatto una bella parata. Nella seconda invece sono riuscito a fare gol. Sono contento, il primo gol al San Paolo è un'emozione veramente bella. La cosa più importante è i tre punti della squadra, che è una vittoria fondamentale per noi.